Windows 11 è cambiato di nuovo, sì praticamente come ogni mese, no beh ogni mese no, però gli aggiornamenti sono veramente costanti e questa volta ci sono state però delle introduzioni interessantissime raramente parliamo di software o meglio di sistemi operativi qui su questo canale però da poco tempo sono passato a Windows 11, non me ne sto pentendo almeno per ora, sembra funzionare tutto abbastanza bene e voglio quindi introdurre un po' queste novità anche perché effettivamente alcune di queste sono realmente interessanti non sono delle bagianate classiche alla Microsoft Style direi quindi di buttarci subito su queste novità ma per prima cosa spazio allo sponsor se sei alla ricerca di una licenza per Windows 10 Pro che potrà poi essere convertita totalmente in maniera gratuita a Windows 11 oppure stai cercando una licenza per Office così per i vostri lavori e spendere veramente poco Hukis fa sicuramente al caso vostro qualora doveste poi utilizzare il mio codice sconto GH20 durante la fase di acquisto risparmierete ben il 20% su tutti gli acquisti il sito è molto molto semplice da utilizzare una volta che vi sarete iscritti e una volta che avrete fatto l'acquisto troverete le chiavi all'interno della vostra dashboard andate a copiare il codice di riferimento ad esempio quello di Windows 10 e poi procedete andando nel pannello di controllo seguendo la procedura di attivazione di Windows incollate il codice che vi viene assegnato e il gioco è fatto lo può fare veramente chiunque vi ricordo nuovamente il codice sconto GH20 per il 20% di sconto tutti i link li trovate qui sotto in descrizione ah sì non vi preoccupate se non vedete Federica in questi ultimi video ma è impegnata in un progetto personale molto importante quindi la vedrete sicuramente nei prossimi video non vi preoccupate allora che cosa ha introdotto Windows 11 in un aggiornamento che già potete scaricare, già potete installare la prima cosa che è saltata subito all'occhio e mi sembra molto interessante è qualcosa che riguarda le nostre orecchie nello specifico l'introduzione del Bluetooth LE per chi non lo sapesse sta fondamentalmente per Bluetooth lo Energy quel LE è proprio bassa energia, poco consumo per intederci e detto così sembra in realtà una cosa negativa tendenzialmente quando abbiamo qualcosa che consuma meno beh non ha le stesse prestazioni di qualcosa che abbiamo sempre utilizzato nel passato cosa non vera in questa situazione perché il Bluetooth LE porta con sé delle migliorie importanti non soltanto meno latenza e per chi ascolta musica ma soprattutto per chi gioca è fondamentale ma anche un range molto più ampio e una qualità audio superiore e tutto questo però in che cosa si traduce fondamentalmente? in un consumo decisamente inferiore rispetto al passato sia per il dispositivo che state utilizzando per trasmettere la musica o per giocare sia per quanto riguarda le cuffie ah, che non vi ho detto fin da subito devono essere compatibili a se stesse con la tecnologia Bluetooth LE però è una cosa molto utile soprattutto per chi usa dispositivi in mobilità ma non solo la seconda funzionalità molto interessante riguarda invece i nostri occhi però per chi utilizza dispositivi mobili quindi tablet oppure notebook quindi dispositivi che hanno un monitor integrato che può cambiare la luminosità e contrasti in maniera molto rapida questa funzione è proprio la luminosità adattiva cosa succede? durante l'utilizzo magari del browser ci capita spesso di passare da siti completamente dark a siti estremamente luminosi con una di quelle botte negli occhi che ci dà un fastidio incredibile beh, questa funzionalità ci permette invece in piena autonomia senza far nulla di non soffrire di questo cambio perché il monitor si andrà ad adattare costantemente in luminosità e contrasto proprio per evitare eccessivi sbalzi di luce per ora non funziona su dispositivi desktop almeno non è stato segnalato nemmeno da Microsoft però insomma, almeno per chi usa i notebook è sicuramente una soluzione interessante questa funzione potete comunque tranquillamente disattivarla dal pannello di controllo oppure renderla attiva solo nel caso in cui voi stesse utilizzando il notebook o il tablet in modalità batteria quindi potete anche tranquillamente farne a meno se vi piace sempre avere la luminosità al massimo e non subite poi questi cambi di luce repentina la prossima funzionalità è molto molto utile e molto pratica perché sappiamo benissimo come sia importante la sicurezza dei nostri account e molti di noi, se non tutti, abbiamo attivato quantomeno almeno una volta l'autenticazione a due fattori che è fastidiosissima perché ci obbliga a utilizzare delle applicazioni secondarie per avere questo codice extra oltre all'utente e la password per accedere ai nostri servizi oppure tramite gli sms e quindi ci dà un pochino di fastidio ecco, ora Microsoft vi permette di collegare il vostro dispositivo mobile tramite l'app dedicata al vostro desktop e ogni volta che andrete a fare un accesso tramite l'autenticazione a due fattori vi arriverà una piccola notifica in basso a destra con la possibilità di copiare immediatamente quel codice senza quindi dover semplicemente scriverlo a mano oppure mandarlo in altri modi insomma dipende anche dalla complessità del codice di per sé se sono pochi numeri ovviamente ci vuole un attimo però in questo modo, anche se avete il telefono lontano da voi questa autenticazione vi arriverà direttamente sul vostro computer ci sono invece voluti decenni praticamente per avere una semplice icona sulla connessione wireless o anche della rete che vi desse l'indicazione che in quel momento siete realmente connessi a una VPN ebbene sì, finalmente abbiamo un piccolo scudino proprio in corrispondenza dell'icona della nostra connessione internet che va a indicarci che siamo correttamente connessi a una VPN tante volte quello che dobbiamo fare è andare sul browser per farci dire quali P effettivamente abbiamo in quel momento in modo tale da verificare che funzioni tutto correttamente ecco, finalmente dopo decenni abbiamo questa funzionalità il che non è male, le VPN stanno prendendo molto piede soprattutto per usufruire di diversi servizi oltreoceano e non solo quindi per molti di voi può essere sicuramente un servizio utile o quantomeno comodo e parlando sempre di funzioni che potevano esistere da decenni anche la possibilità di avere i secondi in basso a destra nella taskbar dove abbiamo l'orologio perché fino ad ora abbiamo sempre solo avuto ore e minuti però non i secondi non so a chi possa realmente servire ma se l'hanno introdotto probabilmente la richiesta c'è stata prima tutto questo bisogna farlo forse addirittura tramite registro di sistema ecco ora è tutto sistemato basta andare in pannello di controllo e attivare la funzione è gioco è fatto come ultima funzionalità non poco importante per chi ama i widget la possibilità adesso di avere ben tre colonne a disposizione per tutti i widget di utilità che possiamo utilizzare per il lavoro per le nostre giornate insomma per gestire qualsiasi momento della nostra vita io non sono un amante dei widget non li uso così tanto però so che molte persone li usano veramente frequentemente soprattutto in ambito lavorativo avere uno spazio extra aiuteranno un poco poi ci sono una marea un'infinità di migliori e in teoria a livello di prestazioni per quanto riguarda il sistema operativo e l'interfaccia grafica personalmente non ho visto queste grosse differenze ma è vero anche che l'ho testato su un pc di fascia molto alta di conseguenza difficilmente potrai notare delle migliorie in questo senso quindi se voi doveste vedere delle migliorie a riguardo fatelo sapere qui sotto nei commenti perché siamo molto interessati a sapere se effettivamente c'è stata questa modifica oppure no queste erano le funzionalità principali del nuovo aggiornamento di windows 11 che penso e ritengo essere interessanti rispetto a tutti i vari fix che normalmente fanno anche a livello di sicurezza la cosa più interessante dal mio punto di vista è stata l'introduzione del bluetooth le perché veramente in questo caso possiamo andare a risparmiare un sacco di batteria se non dal nostro desktop che non c'è bisogno ma dal notebook, tablet e le cuffie stesse sicuramente sarà una grande manna dal cielo perché ci permetterà anche di utilizzare questi prodotti per più tempo perché la batteria si degraderà molto più lentamente fatemi sapere se anche a voi può interessare una cosa di questo tipo se avete windows 11 o se siete ancora arresti a fare questo passaggio e come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video a presto